Benvenuti su Ultimissima, Millie Carlucci ha nuovamente sorpreso tutti con un annuncio inaspettato. Dopo aver promesso ai suoi fan una rivelazione speciale sulla pagina ufficiale di Ballando con le stelle, in occasione del Ferragosto ha finalmente svelato il nome di spicco per la prossima edizione. Ricky Tognazzi! Cosa ne penserà la gelosissima moglie Simona Izzo, che una volta diede uno schiaffo ad una ragazza che si avvicinò troppo al marito? Lo sveleremo nel corso del video. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Ricky Tognazzi, celebre attore e regista, non è un volto nuovo al palcoscenico del programma. Nell'edizione del 2002 ha illuminato la pista come ballerino per una notte, guadagnandosi l'entusiasmo del pubblico e della critica per la sua performance. Ora, Ricky ha accettato l'invito di Millie Carlucci per entrare a far parte del cast ufficiale per la prossima edizione del celebre show. Un video promozionale, pubblicato attraverso i canali ufficiali del programma, mostra Tognazzi in un intenso allenamento insieme alla moglie Simona Izzo, che lo supporta e lo vigila costantemente. L'attore, in preparazione per questa nuova sfida, dimostra dedizione assoluta, sottoponendosi anche a massaggi per garantirsi una forma fisica ottimale. Questa partecipazione rappresenta il secondo impegno televisivo in un programma condotto da Millie Carlucci per Tognazzi, dopo la sua apparizione nella quarta edizione di Il Cantante Mascherato. Ma Tognazzi non sarà l'unico volto noto. Sebbene non ancora confermati ufficialmente, ci sono voci che mettono in lizza nomi di calibro come Simona Ventura, Teoma Mucari e Bobby Solo. Nel frattempo, la speculazione cresce anche riguardo alla possibile partecipazione della tanto chiacchierata Barbara D'Urso, che potrebbe assumere il ruolo di concorrente o fare un'apparizione speciale come ballerina per una notte. Per quanto riguarda la giuria, i dettagli sono ancora avvolti nel mistero. Nonostante le molte voci circolate, Millie Carlucci ha chiarito recentemente in un'intervista con Francesca Fialdini che la selezione non è stata ancora finalizzata. Stiamo ancora lavorando al cast e a settembre avremo maggiori dettagli sulla giuria e su tutto il resto, ha dichiarato. Con questi nuovi sviluppi, la prossima edizione di Ballando con le stelle promette di essere un'esperienza televisiva entusiasmante. Resta da vedere quali saranno gli altri concorrenti che si uniranno a Tognazzi e come si svilupperà la competizione. Se questo video ti è piaciuto lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.